Una settimana fa Musumeci invocava poteri speciali per la gestione della discarica di Bello Lampo che rischia il collasso tra due settimane, annunciando di chiedere a Gentiloni di dichiarare lo stato di emergenza ambientale. In aula, affrontando il tema dei rifiuti, non ha offerto soluzioni, ha fatto solo proclami da campagna elettorale, mentre da quando si è insediato l'unico risultato che ha portato a casa sono le dimissioni dell'assessore regionale rifiuti Vincenzo Figuccia. Così i deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmeri, Stefania Campo, Nuccio Di Paola, Giampiero Trizzino e componenti della Commissione Ambiente dell'ARS, che bocciano la gestione dell'emergenza rifiuti in Sicilia, dove le discariche sono ormai sature e dentro sette mesi, senza una soluzione, rischiano il collasso. Che l'azione del governo musumeci sia in continuità con quella di Crocetta è del tutto evidente, dicono. Non a caso il neogovernatore ha messo a capo del Dipartimento rifiuti lo stesso dirigente che guidava l'ufficio speciale per la differenziata nell'era Crocetta, sottolinano i deputati, che oggi partecipano alla protesta dei sindaci del Palermitano davanti la sede della Presidenza della Regione. Lanciamo una sfida a musumeci, aggiungono, se è vero che vuole risolvere il caos rifiuti in Sicilia, dove l'emergenza, come lui stessa l'ha definita e diventata strutturale, porti entro 60 giorni il nuovo piano regionale del rifiuti in Commissione Ambiente. Secondo uno studio elaborato dal Movimento 5 Stelle, confrontando gli ultimi dati forniti dall'ufficio regionale rifiuti e dall'ufficio speciale per la raccolta differenziata, sul sistema impiantistico regionale per la gestione del rifiuti in Sicilia, aggiornato al primo quadrimestre 2017, la raccolta differenziata nell'isola si attesta al 12,5%. L'isola è all'ultimo posto nella gradatoria nazionale. Il dato risulta fortemente condizionato dalla carenza degli impianti. In Sicilia, infatti, risultano attivi solo 8 impianti di compostaggio, di questi 6 non funzionano. Hanno una capacità complessiva di 68.000 tonnellate. Se fossero funzionanti, porterebbero in automatico ad un aumento della differenziata fino al 30% già quest'anno.